Buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati, ciao ragazzi. Allora, 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 intanto vi do il benvenuto, abbiamo avuto qualche piccolo problema con il link, qualcuno si è perso, ma adesso ci stiamo collegando tutti. Allora, 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 vediamo un attimino. Sapete tutti utilizzare la chat, ragazzi? Dai, andiamo in chat, fatemi vedere che la sappiamo utilizzare, ditemi un buongiorno, un ciao, da dove vi state connettendo? Ecco, ditemi da dove vi state connettendo, che è la cosa più carina. Ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Anna, ciao Irene, ciao Elena, ciao Maria Teresa, ciao Daniele. Allora, vediamo un pochettino, vai, vai, andiamo in chat, proviamo se funziona, che dopo la utilizzeremo. Allora, vediamo un pochettino. Ah, eccoci qui, allora, vediamo un pochettino. Ok, ciao Daniele, da Milano, benissimo. Ciao Anna, Castelfranco, Emilia, ok, benissimo. Ciao Elena, da Milano, ok, benissimo. Ok, ok, ok. Allora, vediamo un pochettino. Ok, eccoci che, ecco, ecco che qualcuno che si sta unendo adesso alla call. Benissimo. Ok, ragazzi, allora, andate tutti in chat, provate la chat, ci servirà per interagire, se mi volete fare qualche domanda durante la presentazione e soprattutto sarà una classe pratica. Allora, pratica perché oggi, ragazzi, parliamo di produttività. Voi sapete che nell'in-presentation design, la metodologia di cui io sono autore e che la mia, diciamo, il mio team porta sul mercato, è una metodologia orientata alla produttività nel mondo delle presentazioni, soprattutto di business. Noi ci occupiamo di fare presentazioni per le multinazionali, ci occupiamo di aiutare chi fa presentazioni a comunicare meglio in maniera più efficace, ma soprattutto più produttiva. Quindi, diciamo, l'in-presentation design è una metodologia per tutti noi che non siamo designer, o non so se qualcuno di voi è un designer, ma io non lo sono, e quindi per chi ha delle capacità, diciamo, grafico-visive, espressive più limitate rispetto a quello di un designer che invece ha una creatività, un background, una formazione che gli permette di visualizzare dei concetti, magari le volte anche astratti con una maggiore agilità, ecco, noi siamo persone di business, abbiamo poco tempo, dobbiamo far passare il messaggio, dobbiamo fare in modo che il nostro messaggio resti impresso, perché sui nostri messaggi, nelle nostre presentazioni, vengono prese delle decisioni. Non avendo tempo e avendo una posta in gioco molto alta, per noi gioca un ruolo fondamentale la produttività, per cui noi dobbiamo essere rapidi a far funzionare le nostre slide. In breve, il problema qual è? Che ci sono un sacco di modi di fare su PowerPoint che noi abbiamo acquisito soprattutto per abitudine che non sono necessariamente i più efficienti. Ci sono tante funzionalità su PowerPoint, tante cose che noi facciamo su PowerPoint, attività, che magari richiedono 2, 3, 10 click, che però si potrebbero fare in un click se soltanto avessimo lo strumento giusto. E così io vi introduco la nostra bacchetta magica, uno strumento che è nato inizialmente per uso interno, quindi per il nostro team, che però oggi noi commercializziamo, distribuiamo sul mercato globale, prevalentemente utilizzato oggi all'estero, soprattutto i mercati trainanti sono gli Stati Uniti, il Giappone, dove lo strumento è utilizzato in maniera veramente estesa. E di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di uno strumento che noi chiamiamo MLC PowerPoint Add-in. Che cos'è l'MLC PowerPoint Add-in? Allora, visto che oggi abbiamo l'opportunità, io mi prenderò del tempo per farvi una carrellata di quelle che sono le funzionalità principali del software. Allora, io tra l'altro ho appena fatto un aggiornamento, quindi adesso vi chiederò di, primissima, primissima domanda, di andare in chat e dirmi se qualcuno di voi già lo utilizza, se sa di che cosa si parla. Allora, ragazzi, andate in chat e ditemi, qualcuno di voi l'ha già utilizzato, qualcuno lo conosco, l'ho già intravisto, quindi so benissimo che già è, diciamo, un utilizzatore avanzato della nostra toolbar. Allora, mi chiedo se qualcun altro di voi lo conosca, lo utilizzi professionalmente per il proprio lavoro. Allora, ditemi, ditemi un pochettino, raccontatemi di voi. Lo utilizzate? Lo avete mai utilizzato? C'è qualche funzionalità che vi piace più delle altre? Raccontatemi un pochettino, raccontatemi qualche esempio, magari, di utilizzo. Quello che vorrei sentire, soprattutto da voi, è se è uno strumento che già voi state praticando, state utilizzando, diciamo, nel vostro modo di lavorare. Allora, vediamo un attimino. Io, nel frattempo, sto preparando un piccolo, diciamo, playground per giocarci insieme. Allora, vediamo un pochettino, vediamo soprattutto in chat. Allora, vediamo un pochettino cosa mi dite. Allora, vediamo. Non ho mai sentito utilizzato, Daniele. Ah, ok. Sono curioso di sapere cosa ti ha incuriosito. Marco, sì, lo so che tu sei un pro del nostro software. Vediamo, Anna, cosa ci dice. L'ho visto questa settimana, ma devo capire le funzionalità. Bene, 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 Anna. Questo, allora, è il momento giusto in cui avrai modo di sperimentarlo insieme a me. Marta, non lo conosco prima volta. Benissimo. E allora, benvenuta. Valentina, so che tu sei una pro. E Marco, benissimo. Va bene, ragazzi. Allora, vi condivido il mio schermo, così ci mettiamo subito le mani. che, sapete, a me piace, per chi ha fatto formazione con me, che le cose siano il più pratico possibile. Quindi, cominciamo a lavorarci subito insieme. Allora, MLC, che cos'è? MLC è un menu che si integra su PowerPoint e vi dà accesso a oltre 60 funzionalità custom che su PowerPoint oggi non sono disponibili, ma che lo diventano grazie a questa toolbar. Lo scopo qual è? È andare a tagliare, a ridurre sensibilmente tutti i click di tutte quelle funzionalità che oggi mancano e che magari richiedono parecchi click per il nostro modo di lavorare. Vediamo subito. Facciamo un esempio. Cosa c'è che non va su questa slide? Allora, su questa slide, se voi la guardate, la cosa è abbastanza evidente, i colori non matchano con le scritte, no? Quindi, se io dovessi spostare a mano questi oggetti, cosa dovrei fare? Dovrei prenderne uno, portarlo sopra l'altro, assicurarmi a mano che sia centrato bene a seconda della vostra sensibilità, del mouse che avete. Questo può ballare. Dopodiché lo dovrei mandare dietro. Poi dovrei prendere l'altro. Ragazzi, è troppo lungo. Guardate questo. Prendo il primo, prendo l'altro e faccio swap. Prendo il primo, prendo l'altro e faccio swap. Praticamente ho tagliato 6-7 click in uno solo. Ed ecco che in una presentazione dove io ho già lavorato con gli allineamenti, con le distribuzioni, se io mi trovo un strumento di questi, io riesco a fare lo swap al volo, devo anche inserire una nuova icona, qualcosa che magari non c'era, faccio uno swap con qualcosa che è già inserito in griglia e risparmi un sacco di passaggi. Ora, questo io ve lo sto facendo vedere su un passaggio solo. Da 7 a 1 click, certo. Però se voi state facendo una presentazione dove magari ci sono 10, 15, 20, 50, 100 slide, allora ecco che poi si spiegano le ore di lavoro di cui parlano le persone che utilizzano questo strumento. Ore di lavoro chiaramente risparmiate. Allora, vediamo un pochettino. Marco, però lo uso solo al 10%. Ecco, sicuramente stai facendo un under promise. sono sicuro che lo usi ben più del 10%, però è anche vero che dall'ultima volta che ci siamo aggiornati, in questo caso Marco parlo con te, effettivamente ci sono tante funzionalità. E questo lo dico a tutti, il software evolve costantemente. costantemente noi ascoltiamo la nostra community, ormai molto attiva, che ci suggerisce un sacco di funzionalità. Noi siamo molto aperti. Pensate che proprio ieri abbiamo incontrato una società di consulenza in Finlandia che sta valutando l'acquisizione rollout per l'intera corporate e ci hanno suggerito alcune funzionalità che per loro sono essenziali, che effettivamente sono molto interessanti e le stiamo condividendo nella nostra community per uno sviluppo, un'implementazione abbastanza rapida. Credo che, insomma, nei prossimi 15 giorni nasceranno due nuovi pulsanti. Ma adesso, aneddoti a parte, andiamo, torniamo alle funzionalità. Allora, regola fondamentale, ragazzi, nell'MLC Powerpoint.d, nella prima forma selezionata, è quella che detta legge, quella che poi detta le caratteristiche, si distrae tutto il resto. Quindi se io voglio che tutti questi oggetti abbiano la stessa dimensione di questo oggetto qua, io prima seleziono questo, poi seleziono questo e entro nel pannellino qui dove vado a farli tutti della stessa dimensione. Poi posso lavorare su allineamenti e distribuzione, ma fondamentalmente il primo dà le dimensioni agli altri. Poi le posso anche combinare. Guardate qui, se per esempio io seleziono il target, posso dare alla mano le dimensioni del target e poi li posso svuoppare. Vedete come faccio queste operazioni? Ragazzi, in Powerpoint, molto del tempo sprecato nasce da rilavorazioni che noi facciamo che noi causiamo a noi stessi. Molto spesso noi causiamo delle rilavorazioni legate al fatto che facciamo le cose in maniera più per pratica che in maniera strutturata. Con uno strumento di questo genere noi ci forziamo a lavorare in maniera strutturata e quindi chiaramente anche questo ci permette di risparmiare del tempo. Qua io posso fare la stessa altezza, qua posso lavorare sulla stessa larghezza, qua posso lavorare su stessa altezza, stessa larghezza, che poi è le stesse dimensioni. Ma attenzione ragazzi perché stessa dimensioni è un pulsante molto intelligente, nel senso che, ora io ve l'ho fatto vedere su delle forme, ma se lo avessi utilizzato sulle immagini, dopo se abbiamo del tempo ve lo faccio provare, se lo avessi utilizzato sulle immagini lui non le deforma ma le ritaglia. Questo perché? Perché chiaramente se tu hai due immagini che sono di dimensioni diverse ma hanno proporzioni diverse, per farle della stessa dimensione dovresti deformarne una. In realtà lui capisce che si tratta di un'immagine e non la deforma. Vi sto passando un po' di behind the scenes che credo possano essere interessanti. Ok, proviamo a guardare questa funzionalità qua, non so se vi è mai capitato che magari tra una slide e un'altra voi avete due immagini, due oggetti, due grafici e hanno dimensioni diverse. Io questi due oggetti li vorrei della stessa dimensione ma sono su due slide diverse, quindi come faccio a metterli della stessa dimensione? È facile, Mauri, selezionali tutti e due insieme come abbiamo fatto finora, ma in questo caso non lo posso fare perché sono su slide diverse. e allora vi introduco al pannellino delle funzionalità cross slide. Come funzionano? In pratica voi avete una colonnina a sinistra e una colonnina a destra. La colonnina a sinistra sono copie, la colonnina a destra sono incolla. Quindi io cosa posso copiare? Per esempio posso copiare le dimensioni. Vedete, clicco su copia dimensione, vado sulla slide successiva, lo seleziono e incollo le dimensioni. Boom, fatto a questo punto quando io passo da una slide all'altra, le dimensioni sono coerenti. E se invece non fossero le dimensioni ma, come in questo caso, la posizione del testo a differire, beh, in questo caso io posso selezionare questa casella di testo, copiarne la posizione, andare sulla slide successiva e incollare la posizione dell'oggetto. Finiti tutti quei un po' più su, un po' più giù, da una slide all'altra, vado, eh no, vado indietro, vado avanti, no, io copio e incollo la posizione, sono sicuro che torni perfettamente. Facciamo un caso ancora più complicato. Proviamo il caso in cui io da una slide all'altra tra due grafici che hanno dimensione e posizione diversa. E allora in questo caso io seleziono il primo, copio la dimensione e la immagazzino in clipboard. Copio la posizione e la immagazzino in clipboard. Adesso vado sulla seconda slide e incollo sia la dimensione che la posizione. E voi vedete che il grafico non balla più da una slide all'altra. Ragazzi, questi sono decine di passaggi risparmiati. Soprattutto perché a questo punto avendo immagazzinato in clipboard sia la dimensione che la posizione a me basta andare avanti e nelle slide successive e continuare a incollare posizione e dimensione senza dover ricopiare dalla prima slide. Quindi io potrei rendere coerente un'intera presentazione a cascata in un colpo solo. Capite che è un bel un bel po' di lavoro risparmiato. Allora qui invece che cosa vi faccio vedere? Qua vi faccio vedere il copy paste to active slides che è l'ultimo pulsantino cross slide come funziona? Immaginatevi di avere una stellina un logo su una slide e di volerlo replicare in maniera coerente nella stessa posizione nelle altre slide. In quali slide però? Nelle slide selezionate quindi le slide che noi chiamiamo attive. Allora lo copio intanto lo memorizzo quindi lo vado a archiviare in clipboard in memoria. Benissimo. A questo punto cosa faccio? Vado ad attivare alcune slide in PowerPoint come si attivano le slide? Le seleziono. Ragazzi per selezionare slide non adiacenti bisogna tenere premuto control sulla tastiera e poi cliccare le slide. A questo punto io so che se schiaccio incolla questo logo questo oggetto andrà su queste slide in un solo click quindi io non devo passare di slide in slide copiare incollare attenzione alla posizione no e tutto in automatico va diretto. Ok ragazzi? Semplice. Queste sono le funzionalità di base di produttività. Adesso ve ne voglio far vedere un'altra gli allineamenti qui qualcuno durante soprattutto quando facciamo le nostre formazioni in azienda a me ai nostri coach ci chiede sempre ma Mauri ma perché gli allineamenti se in PowerPoint gli allineamenti esistono già? Allora in PowerPoint gli allineamenti esistono già ma hanno un grossissimo limite se tu vuoi allineare tutto a sinistra ma non vuoi muovere l'oggetto nero in questo caso con gli allineamenti di PowerPoint questo tu non lo puoi fare infatti io vi invito adesso ragazzi guardate l'oggetto nero io vado a utilizzare un allineamento di PowerPoint vedete che si è mosso se io utilizzo gli allineamenti di PowerPoint loro calcolano una specie di media ok e muovono tutto rispetto a quest'asse poi certo sono allineate rispetto sulla sinistra ma l'oggetto nero si è mosso se io avessi preparato una tabella di oggetti e avessi ingrigliato tutto e non volevo muovere l'oggetto nero con gli allineamenti di PowerPoint non è possibile con gli allineamenti MLC questo è possibile infatti la differenza sta proprio in questo il primo oggetto selezionato diventa l'ancora quindi guardate l'oggetto nero adesso io vado ad applicare l'allineamento e l'oggetto nero non si muove lo stesso per tutti gli altri guardate notate bene che ragazzi io seleziono sempre prima l'oggetto nero d'accordo e poi gli altri a cascata vedete ora vado vado rapido perché gli allineamenti sono tutti gli stessi li conoscete e adesso questo in basso vedete che l'oggetto nero non si muove mai e lo stesso vale tra l'altro anche per le distribuzioni che sono orizzontale e verticale chiaramente abbiamo due pulsanti di distribuzione quindi vedete che l'allineamento non diciamo non spazzate distribuzioni vanno a funzionare funzionano vincolando il primo oggetto selezionato in questo caso l'oggetto nero per comodità grafica quindi così abbiamo visto gli allineamenti e le distribuzioni questi cosa sono questi sono dei pulsanti che ti permettono di fare gli stack gli stack sono come distribuire gli oggetti ma a zero distribuire cosa vuol dire in powerpoint vuol dire rendere equidistante lo spazio tra gli oggetti se tu quello spazio lo metti a zero stai facendo un'impila cioè stai facendo lo stack che può avere senso sia verticale sia orizzontale che verticale come in questo caso questo è quello verticale ok quindi stack è un modo per compattare viene utilizzato spesso sui processi sulle roadmap sulle timeline ecco è un modo di compattare tutti gli oggetti adesso salto perché vi ho preparato una cosa carina che vi voglio far vedere che vediamo se la ritrovo allora vediamo un pochettino ve l'ho preparata perché vi voglio fare vedere la griglia eccolo qua allora portiamoci un po' su questa griglia perché ve lo voglio far vedere adesso visto che li stiamo trattando allora guardate questo ragazzi immaginatevi di avere degli oggetti sparsi e li volete ingrigliare spesso le slide alla fine cosa sono sono dei layout di oggetti messi in griglia per colonne per righe se ci pensate ecco in questo caso io li dovrei grigliare allora per grigliare non grigliarli al barbecue ma grigliarli metterli in griglia allora utilizzerò questo pulsante qua aspettate perché non sono sicuro che poi lo vediate funzionare correttamente quindi vi condivido proprio tutto il mio schermo ecco adesso lo dovreste vedere il pulsante è questo qui che vi permette di andare a creare quante colonne volete e quante righe volete in questo caso le righe sono due in realtà ma io potrei anche organizzare ad esempio fatemi pensare potrei fare quattro colonne e due righe o cinque colonne ok vedete che poi gli oggetti vanno a prendere la posizione poi io qua posso decidere lo spazio verticale e lo spazio orizzontale di distribuzione tra gli oggetti e a questo punto fare un ok la mia slide è praticamente disegnata se voglio allineare questi oggetti mi basta grupparli per ragazzi per chi usa powerpoint in italiano il gruppo è ctrl shift g per chi lo usa in inglese ctrl g dopodiché li vado ad allineare con i miei allineamenti vi faccio osservare che gli allineamenti mlc se nient'altro è selezionato oltre al gruppo quindi non c'è un secondo oggetto selezionato oltre al primo l'allineamento va in assoluto quindi prende come riferimento gli assi della slide sgruppo per chi usa powerpoint in italiano ctrl shift h per chi lo usa in inglese ctrl shift g quindi in questo caso ho praticamente fatto una griglia ordinata di oggetti mauri ma il primo e l'ultimo sono invertiti ok faccio uno swap e li vado a scambiare quindi vedete posso anche combinare diverse funzionalità a seconda di ciò di cui ho bisogno vi faccio vedere poi questo oggetto qui che noi lo chiamiamo lo spacer lo spacer che cos'è è un oggetto che fondamentalmente è una funzione che fondamentalmente vi permette di controllare in maniera puntuale lo spazio di distribuzione tra gli oggetti è molto potente perché è l'unico modo per controllare lo spazio di distribuzione non ce ne ha altri quindi se voi avete bisogno di una distribuzione precisa e allora il modo migliore per farlo è utilizzare lo spacer ok andiamo avanti ragazzi allora alcune funzionalità sono delle scorciatoie di funzionalità di powerpoint standard quindi non so quasi neanche a commentarle il font più grande più piccolo insomma sapete tutti come funziona in powerpoint per cui diciamo che non richiede grande commento però è comodo averlo qui mentre lo split text questo invece è un pulsante interessante che oggi vale la pena farvi vedere perché secondo me può far risparmiare parecchio lavoro immaginatevi di avere una casella di testo fatta di bullet point proviamo a farla insieme immaginatevi una casella di testo ecco fatta così e allora io posso con lo split dividere questa casella in tante caselline ok e voi potreste pensare Mauri ma perché e perché perché io facendo questa cosa adesso posso andare a riorganizzarmi queste caselline magari con il grid ok e come vedete mi sono andato a creare la slide questo io ci metto un bel 100 ok e mi sono creato una bella distanza ecco qui la mia slide queste potrebbero essere ad esempio delle delle descrizioni io poi qui ci posso mettere delle iconcine che adesso poi vi faccio vedere dove le andiamo a pescare e ho completato una slide anzi facciamolo subito io potrei andare qui su graphic library quindi salto in graphic library entro sulle icone ok e da qua io quando poi la mia connessione oggi ci permetterà il caricamento io potrò andare a prendere delle iconcine ecco qua e inserirle all'interno della mia slide allora questa ragazzi è una collezione di icone predefinita diciamo che noi mettiamo a disposizione ok sono icone vettoriali e dopo più avanti io vi farò vedere sono icone fondamentalmente colorabili in powerpoint d'accordo sono sono proprio delle icone che noi disegniamo mettiamo a disposizione dei nostri utenti si possono inserire con un semplice click e ne avete a disposizione svariate migliaia queste anzi in realtà con la partnership di settimana scorsa con un grosso portale di icone spagnolo adesso ne abbiamo a disposizione più di 10 milioni questo significa che qui voi troverete sempre l'icona a vostra diciamo che state cercando ma io vi voglio invitare durante le mie formazioni dico sempre interpretatele come dei mattoncini lego perché le nostre icone si possono customizzare ovvero noi vi diamo questi questi preset di icone ma in realtà voi potreste prendere l'icona scomporla e personalizzarla come vi pare vi faccio un esempio prendo questi due occhietti ok però io posso sgrupparli o separare come si dice in powerpoint ok ragazzi e posso andare a customizzarli nella maniera in cui io desidero tra l'altro questo può diventare un terzo oggetto e diventa un'icona completamente diversa che nella mia library non esiste ma che tu adesso hai creato e customizzato qua si può fare veramente di tutto ragazzi interpretate queste iconcine come dei veri e propri mattoncini lego che poi potete andare a personalizzare per creare le iconcine che voi desiderate vedete si può fare veramente qualsiasi cosa questi sono appunto delle iconcine modulari che noi disegniamo per l'occasione ok quindi questo ho saltato un attimino sulla parte graphic library perché vi volevo far vedere come è possibile quindi combinare diverse funzionalità vedete lo split il grid e così sono andato a ricostruire una slide in maniera rapida e veloce andiamo avanti allora vediamo cos'altro abbiamo qui questi ok sono i bring to front send to back queste sono delle funzionalità che in powerpoint esistono già che voi conoscete ma noi le utilizziamo come scorciatoie però ce n'è una che a me piace particolarmente menzionare vediamo se vi posso far vedere un caso di studio carino ok ad esempio questo se voi andate a guardare c'è questo pulsantino che noi abbiamo messo qui si chiama layers che cosa fa layers layers è un pulsantino molto utile che ci permette di andare a pescare degli oggetti che sono finiti dietro dietro vediamo se vi posso far vedere forse ecco anche questo qui interessante non so se vi capita mai che magari mettete una grossa immagine sopra la vostra slide e tutto il resto finisce dietro e dietro dove dietro l'immagine e dietro l'immagine significa che adesso io come faccio a pescarlo pannellino layers livelli e da qua io vedo tutti i miei oggetti posso nascondere l'immagine vado a rivelare gli oggetti dietro oppure quello che posso fare è portare l'immagine dietro portare il box dietro ed ecco qui che la mia slide torna a funzionare ok vedete io poi selezionando gli oggetti posso andare a capire quale oggetto è quale poi li posso nascondere li posso bloccare in modo da vincolarli a una certa posizione e non pestarci dentro quando poi ci ci lavoro ecco quindi layers permette di gestire le proprie slide in maniera molto più organizzata molto più strutturata questo è il font lo abbiamo visto split text ve l'ho fatto vedere prima è quello che divide la casella di test quindi in tante sotto caselle a questo punto io poi posso utilizzare il grid per creare delle strutture personalizzate vedete quanto ci metto a fare fondamentalmente una slide queste sono slide già pronte perché? perché sono sicuro che non devo fare rilavorazioni perché? perché le fa un software quindi sono certo che sia tutto ben distribuito ben organizzato e io poi al massimo devo andare a fare qualche piccolo edit la stessa cosa si può fare al contrario bisogna fare sempre molta attenzione perché la prima forma darà il formatting a tutta la casella di testo in questo caso vedete sono andato a riunire delle caselle di testo che erano separate all'interno della stessa casella di testo ok andiamo avanti ci sono le tabelle le tabelle sapete in powerpoint spesso non sono comodissime perché magari capiti in situazioni di questo genere diventano scomodi da gestire è normale ragazzi powerpoint non è bravo a gestire le tabelle ma è bravissimo a gestire le forme per questo noi abbiamo inventato un pulsante che divide le tabelle in forme trasforma le tabelle in forme e a questo punto io potrei andare a raggrupparmi i vari oggetti e potrei lavorare con le forme che sono un oggetto molto più congeniale a powerpoint vedete posso lavorare con i gruppi gruppare sgruppare selezionare allineare giustificare fare tutto quello di cui ho bisogno semplicemente perché la tabella ora è molto più flessibile perché lo convertite in forme questa è una tecnica abbastanza avanzata bisogna avere una certa agilità per utilizzarla però ragazzi funziona veramente da dio per cui non potevo non farvela vedere questa è una cosa che sicuramente vi sarà capitata trascino la casella di testo e lei si ridimensiona non so se vi è mai capitato ma se vi è capitato basta schiacciare su questa T che è il do not auto fit ok do not auto fit per sganciarla e così immediatamente la vostra casella è personalizzabile alle volte ci sono dei margini che non sono i margini migliori non so se vi è mai capitato allineare due caselle di testo però i margini sono diversi quindi non riesce ad allinearle allora un trucco comodo che noi utilizziamo quando lavoriamo con le presentazioni è rimuovere i margini di una casella di testo in un click settarli a zero e a questo punto è molto facile perché essendo che il testo coincide con il bordo della casella allineando le due caselle corrisponderanno alle volte il testo va oltre la casella di testo io vedo delle persone che fanno cose di questo genere che mandano a capo ragazzi vi prego no mandiamo a capo ok esiste il wrap utilizziamolo ok queste sono funzioni che in powerpoint esistono già noi abbiamo soltanto utilizzato le scorciatoie qua perché ci viene più comodo e le raggiungiamo in un click però utilizziamole poi mi rendo conto che sono funzionalità nascoste che per raggiungerci vogliono 4, 5, 6 click per questo che noi le mettiamo nel nostro ribbon però mi raccomando non facciamo cose a capi manuali nelle caselle di testo ok andiamo a questo questo ragazzo è una funzionalità che nasce credo tre settimane fa quindi è proprio un appena arrivato ed è il Select Similar tra l'altro ci è stato richiesto da un'azienda che utilizza il software in maniera estesa negli Stati Uniti loro ci hanno dato questo suggerimento effettivamente è una funzionalità che noi apprezziamo moltissimo per cui l'abbiamo implementata si chiama Select Similar che cosa fa? Il Select Similar ti permette di selezionare degli oggetti simili per qualcosa per esempio per lo stesso colore o per la stessa outline o per lo stesso peso di outline per lo stesso tipo di forma ok e così via poi anche sui font perché è utile? è utile perché se io mi trovo ad esempio in una slide come questa dove ho le linee che sono tutte storte ok le voglio raddrizzare cosa faccio? ne seleziono una faccio un Select Similar per tipologia di forma e così le ho selezionate tutte poi utilizzo Rettifica Linee boom le linee sono tutte dritte ok ma l'ho fatto in due click perché non sono andato a selezionarmi tutte le linee ora in questo caso non sarebbe stato complicatissimo farlo perché ora che vedo questa slide effettivamente mi basta tenere premuto Shift e andarle a cliccare ma ci sono volte ragazzi dove selezionare tutti gli oggetti diventa veramente un incubo perché magari l'oggettino è leggermente dietro qualcos'altro quindi tu non riesci a cliccarlo perché clicchi quello sopra la selezioni la deselezioni magari hai già selezionato 15 oggetti e se sbagli quello perdi la selezione poi devi ricominciare da zero non so se sapete di cosa sto parlando se siete pratici con PowerPoint perché non conosco tutti oggi però ragazzi sono cose che capitano e vi posso garantire che se tu hai selezione un oggetto e poi fai il Select Similar lui li va a pescare per te risparmi veramente tanto tempo quindi idea brillante dei nostri clienti assolutamente da contenti di averla sviluppata ok che cos'è il Consistency Manager qua io vi faccio la dimostrazione direttamente su un PowerPoint pulito così lo capite ancora più facilmente ragazzi vedete sempre il mio schermo il PowerPoint pulito lo vedete si datemi un segno di vita in chat vedete il mio PowerPoint pulito ragazzi ok perfetto 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 ok 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 grazie mille allora io vado avanti ok allora ragazzi guardate questo immaginatevi di avere una presentazione e questa presentazione voi la state realizzando in Calibri solo che che cosa succede che a un certo punto all'interno di questa presentazione succedono cose del tipo che vengono fuori altri font magari avete integrato le slide di un collega e quel collega stava lavorando con un font diverso magari con un Arial magari con un Times New Roman e quindi poi voi vi trovate alla fine di una presentazione con 50 slide dove dovete unire fare in modo che i font siano tutti gli stessi in grato compito che solitamente aspetta qualcuno uniformare tutti i font all'interno della presentazione ok e quindi cosa si fa si va slide per slide e si unisce casella si sistema casella per casella no quello che si utilizza noi nel nostro caso è un oggetto che chiamiamo consistency manager il consistency manager peraltro non è che è un pannello laterale che ti dà accesso a tutti i font della presentazione in questo caso io vedo che sono utilizzati i calibri Arial e Times e dopodiché mi dà la possibilità andando a selezionare il Times e rimpiazzandolo ad esempio con un calibri di eliminare ok tutti i Times nella mia presentazione vedete questi che hanno Times ora diventano dei calibri e così via anche sull'Arial quindi in pratica io cosa faccio da questo pannellino con un semplice refresh mi vado a uniformare tutti i font della mia presentazione in un colpo solo vi invito ragazzi se avete la versione di prova avete scaricato dal sito la versione di prova del software o se lo state provando per la vostra azienda contattatemi per provarlo ad aprire una vostra presentazione e far partire il consistency manager ragazzi la faccia dello stupore che vedo in classe quando apriamo delle presentazioni che sono convinte convinti che siamo convinti di essere tutte fatte coerenti su un unico font e poi il font manager ti rivela the ugly truth la dura verità e scopri che ci sono degli altri font poco male perché se hai a disposizione il consistency manager in realtà ti basta pochissimo per sistemare la presentazione in un colpo solo la stessa cosa chiaramente si può fare con con i colori quindi se io torno di qua apri il consistency manager faccio vedete io già in questa presentazione quanti font c'ho ora in questa presentazione è fatto apposta perché noi vogliamo vogliamo utilizzare questo strumento però chiaramente dovrei avere uno o almeno le variazioni di famiglia del mio font il nostro font è Gilroy almeno le variazioni di famiglia del Gilroy altrimenti gli altri non hanno veramente un senso quindi io potrei prendere il calibri e andarlo banalmente a rimpiazzare ok per esempio con il mio Gilroy e così ho sistemato un bel poco di slide allora la stessa cosa si può fare con i colori il color del consistency manager vi mostra tutti i colori della vostra presentazione con il loro codice decimali vi faccio un esempio io già so che voi avete visto che io utilizzo questo giallo è il nostro giallo aziendale il nostro giallo corporate e io so che il nostro giallo corporate è FFDB46 lo so perché è uno dei colori che io memorizzo qui nella mia palette colori standard vedete che io sono andato a customizzare che mi invito vi invito poi a personalizzare nel caso in cui voi utilizzassi il software ecco questa è la palette colori standard vedete io so che il mio brand color della mia azienda è FFDB46 ma vedo nella mia presentazione che è stato utilizzato un colore simile ma che non è corretto FFDB43 quindi lo seleziono lo seleziono il suo esadecimale e lo vado a modificare vado a cambiare con il 6 a questo punto io faccio ok quindi ecco il 4-3 non esiste più ora tutti gli oggetti in 4-3 sono stati convertiti in 4-6 e io ho corretto tutti i colori della mia presentazione capite il risparmio di tempo significativo nel lavorare con un oggetto di questo genere io vi dico una passata di font manager e color manager alla fine della presentazione vi risparmia ore di lavoro ma letteralmente ragazzi ore di lavoro e soprattutto errori perché questa è una cosa che viene fatta chiaramente in automatico poi abbiamo anche il same color che funziona che tu selezioni il primo e vai ad applicare lo stesso colore a tutte le altre forme ma voglio soffermarvi un secondo su questo pannellino qui che vi stavo commentando rapidamente prima questo pannellino qui a cosa serve? raga questo pannellino qui è una bomba perché questo pannellino qua vi mette a disposizione i vostri colori e i vostri font a partire da un click indipendentemente dalla presentazione dal tema su quale state lavorando voi sapete bene che la palette colori di powerpoint cambia a seconda del tema del master in cui siete se non lo sapete chiedetemelo vi mando poi un articolo una guida o magari un mini corso che ho fatto su come si utilizza il master nelle presentazioni disponibile sul mio canale youtube dopo vi faccio vedere nel caso in cui io però voglio avere a disposizione sempre il mio giallo ok e lo voglio poter applicare rapidamente a quello che è un riempimento o un outline o magari il testo contenuto all'interno della forma ok allora io i miei colori li voglio avere sempre qui a disposizione vedete quindi cosa faccio apro questo pannellino me li vado ad inserire colori font f1 f2 f3 mi vado a memorizzare i miei font in questo modo io so che quando poi avrò un font qui dentro sbagliato vi faccio un esempio mettete che questo sia un calibri che è sbagliato perché io voglio che sia Gilroy non è che devo andare qua selezionare qui e poi andarmelo a pescare no io quello che faccio è schiaccio f1 e ce l'ho già pronto f2 o f3 e il mio font è immediatamente applicato quindi questo pannellino qui che noi chiamiamo colors and font fondamentalmente sono i vostri brand and font colors che voi potete customizzare e rendere disponibile all'interno della vostra organizzazione ok arriviamo a gonfie vele alla graphic library un mondo che si apre perché qui avete a disposizione milioni di immagini in alta risoluzione libere da copyright noi siamo partner ufficiali di una serie di portali di photostock che ci mettono a disposizione tutti i loro repository prezioso ricco libero da copyright in altissima qualità vi basterà un click per inserire l'immagine all'interno delle vostre slide e il gioco è fatto peraltro con la licenza di mlc.pd voi avete accesso illimitato a questi repository più a tutti i repository con i quali noi andremo a fare delle partnership per cui ragazzi io vi invito a provarle a cercare a sperimentare perché veramente avete una montagna di immagini a disposizione potete farci veramente qualsiasi tipo di presentazione ci sono poi dei pulsanti molto utili qui che funzionano che ti permettono di fittare l'immagine sulla slide quindi fai un fit l'immagine direttamente va a tutta slide poi chiaramente noi lavoriamo in maniera compatibile con PowerPoint per cui tutto questo si può ritagliare aggiustare zoomare e quant'altro e quindi le immagini si possono addirittura ritagliare immaginate voi di avere un'immagine che va fuori dalla slide si può fare un ritaglio su slide questo non lo chiamiamo crop to slide quindi ritaglia tutte le eccedenze poi si possono fare alcune cose carine ad esempio voi potete creare delle maschere personalizzate sulle vostre immagini e qui praticamente la slide è pronta perché io qui poi cosa posso avere posso avere magari un testo ok un testo che io per farvi una cosa un po' più particolare ecco lo vado a organizzare in colonne e qui avrò il titolo della mia slide title of the slide ecco che io vado a mettere direttamente su in testa alla mia slide ed ecco qui abbiamo abbiamo creato una slide ragazzi è un esempio chiaramente però è un esempio che secondo me vi permette di vedere come si può creare rapidamente una slide con l'oggetto maschera quindi maschera permette di creare delle maschere customizzate sulle slide mentre il frammenta permette di andare a creare proprio una frammentazione tra le forme quindi se io questa forma la metto su questa immagine faccio frammenta io vado a creare un buco qui dentro e quindi poi qui dietro ci posso andare a inserire quello che voglio quindi potenzialmente anche un'immagine che io ora vado a gestire da qui vedete posso andare a gestire un'immagine all'interno dello schermo del mio telefono quindi questo è il frammento regola dei terzi non sto qui a spiegarvela ragazzi questa fa parte del corso poi se siete interessati vi posso comunque mandare una guida e youtube qui io inserisco il link di youtube di un video youtube e lui me lo va a scaricare inserire direttamente sulla slide molto utile nel caso in cui voi dobbiate presentare e non volete rischiare magari la connessione quel giorno non funziona meglio avere il video nella presentazione così che non corriamo rischi ma questo è soltanto il primo ragazzi dei tab delle graphic libraries perché in realtà ce ne sono degli altri molto potenti per esempio icons ve l'ho fatto vedere prima icons sono ci sono milioni di icone anche qui come dicevamo prima sono icone vettoriali quindi sono icone che voi potete tranquillamente facilmente inserire all'interno della vostra presentazione e funzionano come mattoncini quelli potete chiaramente andare a personalizzare li potete andare a personalizzare ok in tutti i loro dettagli quindi io inserisco un iconcina la sgruppa abbiamo detto prima vado a prendere alcune parti gli do un colore d'accordo posso fare cose di questo genere che non è soltanto una carineria ragazzi è utile perché magari delle icone adesso che ora non rappresentano il mio brand potrebbero dopo rappresentarlo facciamo un esempio un esempio sciocco ad esempio io prendo se io vado su Amazon e prendo i brand color di Amazon d'accordo io potrei ad esempio andare ad applicare alla mia icona il brand color di Amazon quindi ad esempio potrei fare che queste grigie blu in realtà loro lavorano con questo blu ok e questi per esempio potrebbero essere dell'arancione Amazon facciamo una prova subito sto usando il contagocce ecco qua vedete questa è un'icona che adesso è coerente con il brand color di Amazon quindi non è soltanto una questione di fare le cose più carine ragazzi è proprio una questione di coerenza grafica d'accordo quindi molto molto utile ma non si ferma qui perché poi potete addirittura fare delle ricerche non so cerchiamo business e quando io faccio una ricerca avrò tutta una serie di risultati che posso andare ad utilizzare e sono risultati che noi vi mettiamo a disposizione più risultati che vengono da portali con i svariati livelli di customizzazione abbiamo abbiamo le mappe le mappe che cosa sono le mappe sono dei grandi oggetti vettoriali che noi abbiamo ricostruito paese per paese region per region quindi se io prendo una mappa e vado a utilizzare il pannello dei livelli quello che abbiamo visto prima io ho la possibilità vedete di tutti i livelli noi gli abbiamo gli abbiamo dato un nome che poi è il nome del paese e li abbiamo riordinati in ordine alfabetico questo mi permette di selezionarli con il control e semplicemente andarli a colorare sapete tutte le volte che bisogna colorare le mappe fare degli highlight noi facciamo questa cosa qualora la mappa non dovesse essere disponibile perché voi avete un'esigenza specifica noi la disegniamo ad hoc e la carichiamo infatti come vedete qui probabilmente abbiamo appena rilasciato delle nuove mappe per i nostri utenti infatti c'è il pulsante di update perché persino io le devo aggiornare template questi sono una bomba ragazzi allora i template cosa sono i template sono un modo per non farvi ripartire da zero sulle vostre slide noi siamo un'azienda che disegna presentazioni per le multinazionali sappiamo quali sono le slide che vengono richieste più spesso per cui noi cosa facciamo le andiamo a ridisegnare in maniera professionale e vi mettiamo a disposizione i layout già pronti quindi devo creare un'agenda non ho il tempo non so come farla non so cosa inventarmi poco male io vado vado a utilizzare i template e ce l'ho praticamente già pronta seleziono gli oggetti Mauri ma mi poteste chiedere ma questi sono tutti gialli sì ok seleziona utilizzo il seleziona simile gli vai a cambiare l'oggetto gli vai a cambiare il colore molto 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 semplice quindi in realtà vedete come le varie funzionalità si combinano le une con le altre questo è un template i template chiaramente noi ve li mettiamo a disposizione completamente customizzabili e soprattutto ce ne sono diverse svariate centinaia ne stiamo lavorando diverse migliaia quindi ragazzi qui ci sarà veramente una grande evoluzione presto come vedete i template tra l'altro si integrano con la DIN nel senso che tu puoi andare a inserire le immagini direttamente nei placeholder che noi predisponiamo per te basta un clic e l'immagine va dritta nel placeholder quindi ci sono agende ci sono timeline layout di slide già pronti ci sono schemi logici di svariate svariate tipologie lo clicco lo inserisco lui va sulla mia presentazione e io a questo punto me lo posso andare a gestire come voglio posso customizzarlo modificarlo prenderne un pezzo ci sono analisi con matrici SWOT vedete alle volte anche un po' più creativi organigrammi torte addirittura alcuni layout disegnati su specifica richiesta di alcuni nostri clienti perché se voi avete poi dei layout particolari che volete che noi ridisegniamo e che utilizziamo per arricchire la library noi siamo sempre molto disponibili a svilupparli questo è un diagramma di Gantt che un nostro cliente utilizza spesso noi lo abbiamo ridisegnato e gli abbiamo messo a disposizione direttamente il sorgente ok poi personal design library ecco queste sono due delle funzioni in assoluto più utilizzate dalle aziende perché questi sono i vostri repository i vostri repository cosa vuol dire vuol dire che voi io qui per esempio posso mettere che sono una collezione di icone che servono a me io per esempio utilizzo molto le freccine mi sono caricato una collezione di freccine le immagini dei miei libri piuttosto che i loghi dei miei clienti piuttosto che i loghi della mia azienda quindi per esempio il logo in alta della mia azienda di mlc quindi vedete io ce l'ho qui lo vado e le inserisco sono sicuro che questo sia il logo in alta che non sgrani non lo devo andare a pescare da un'altra presentazione ecco vedete qua io mi vado a caricare tutti gli oggetti che fondamentalmente a me servono che utilizzo più spesso icone immagini asset di vario tipo e genere con un tasto destro io posso creare una nuova cartellina posso decidere di condividere la cartella con i miei teammates quindi io posso andare a condividere la mia cartella con le persone che lavorano con me dando gli diritti di editing quindi possono modificare la cartella visualizzarla e quant'altro oppure contribuire o semplicemente utilizzarla per così per come l'ho impostata io la slide library funziona esattamente nella stessa maniera la slide library è una libreria di slide prefatte quindi io ho creato questo gant mi piace lo voglio riutilizzare in futuro o addirittura lo voglio condividere con il mio team molto semplicemente faccio un tasto destro lo vado a caricare ok ora non lo faccio perché sono le mie libraries quest add selected slide lo posso caricare direttamente nella libreria se la libreria poi è condivisa con il mio team tutto il mio team lo vedrà e in un semplice click ok potrà andare ad inserire la slide direttamente nella sua presentazione questo è secondo me un fighissimo perché mi permette di non soltanto guadagnare del tempo io che sto utilizzando il software ma diventare un driver un catalizzatore di risparmi di risparmio di tempo anche per tutto il team poi c'è anche un altro pulsante che vi segnalo che è add all slides cosa vuol dire che serve per caricare interi template quindi se tu hai un template aziendale apri la presentazione del template fai add all slides e praticamente in questa cartella viene caricato tutto il template questo è molto comodo perché così tu condividi il template e tutti hanno accesso all'ultima versione del template ok carrellata ragazzi velocissima delle graphic libraries in modo da andare in conclusione e poi fermarmi un secondo per riprendere fiato io darvi la possibilità anche di fare qualche qualche domanda rispondere a qualche curiosità se ne avete quindi se avete qualche domanda tenetela in caldo perché sto per arrivare per cui andiamo avanti il diagramma di Gantt non so se tutti utilizzate il diagramma di Gantt sapete cos'è ma è uno strumento prezioso per fare gestione dei progetti crearlo in powerpoint è un incubo farlo in excel trasportarlo in powerpoint è ancora peggio per cui noi abbiamo sviluppato uno strumento che punta e clicca ti permette di identificare quali sono le task di progetto i responsabili dare la data di inizio e la data di fine andiamo avanti task 2 data di inizio con data di fine task 3 con data di inizio data di fine ragazzi sto scegliendo delle date completamente a caso ma è giusto per farvi vedere mesi vado pronto il diagramma di Gantt è operativo già proporzionato già funzionante voglio aggiornare lo stato delle attività perché questo è al 10% perché questo è al 60% e questo è al 100% di completamento lo posso fare peraltro se poi voi prendete questo strumento e lo andate a dare a qualcuno che non ha MLC siccome noi lavoriamo in maniera compatibile con powerpoint tutti i nostri oggetti sono oggetti semplici di powerpoint per cui tutti questi oggetti possono essere colorati cambiati modificati direttamente in powerpoint da voi che avete la DIN o da chi non ce l'ha quindi è uno strumento molto semplice da utilizzare ma anche molto molto potente ma andiamo avanti i pulsanti di salvataggio allora i pulsanti di salvataggio sono fighissimi perché i pulsanti di salvataggio vi permettono di salvare soltanto alcune slide quali per esempio quelle attive vi faccio un esempio immaginate che voi vogliate salvare la slide 1 3 sostenendo il primo modo control e la slide 6 quindi 1 3 e 6 vedete io ho evidenziato queste slide a questo punto io faccio save active slides e come voi vedete lui va a creare un salva con nome ma non dell'intero powerpoint solo delle slide selezionate quindi in questo modo finisce tutta quella storia quella manfrina come diceva la mia nonna di apro un nuovo powerpoint copio le slide del nuovo powerpoint però poi devo stare attento perché il template non si deve perdere quant'altro no io seleziono le slide che voglio faccio un click e le salvo oppure faccio un click send e le invio se io faccio send active slides lui mi apre già un outlook in cui c'è un allegato e questo allegato include già le slide che ho tutte e sole le slide che ho selezionato quindi se io devo mandare rapidamente delle slide a un collega le seleziono send active slides mail pronto allegato pronto scrivo due righe di tasto invio fatto e in ultimo ma non meno importante uno dei miei preferiti il salva su desktop questo per evitare il file salva con browse cerca il desktop no faccio un click e la presentazione si salva su desktop immediatamente ok in conclusione questi ultimi pulsanti che sono parte degli extra questa è una sandbox di testo quindi io qua ci posso scrivere tutto il testo che voglio sono delle note poi potersi chiedere a Mauri ma qual è la differenza tra le presentation note e quelle standard di PowerPoint è che quelle standard di PowerPoint esistono ma sono collegate ad ogni slide mentre questo invece è della presentazione quindi io ci posso mettere del testo che poi mi vado a inserire sulle slide o del testo che ora voglio tenere fuori che poi magari voglio riutilizzare del testo che magari sto prendendo degli appunti durante una Teams call quindi molto utile presentation notes ed infine ma non meno importante come dicevamo il proofing language è proofing voi sapete che quando fate proofing di un documento in Office in PowerPoint in particolare vengono fuori le sottolineature rosse ecco quelle sottolineature rosse non magari fanno proofing in una lingua però poi se tu vuoi cambiare il proofing della lingua e su tutta la presentazione diventa complicato lo devi fare casella di testo per casella di testo per cui noi abbiamo inventato questo proofing language controller che praticamente ti permette schiacciando questo pulsante di andare a cambiare il proofing tutto della presentazione e tutto nella stessa lingua in modo poi da non avere quelle lineette forse idiose sotto che ti depistano e non ti indicano più quali sono veramente gli errori ok dimostrarle tutte nel giro di un'ora sta diventando sempre più difficile considerando che adesso settimana prossima stiamo per accogliere un paio di nuovi pulsanti diventerà ancora più sfidante allora ragazzi questa è una bella carrellata di diciamo delle funzionalità principali di MLC PowerPoint a DIN come vi dicevo ci sono oltre una sessantina di funzionalità la DIN è completamente customizzabile perché come avete visto si possono creare le proprie librerie di oggetti di slide condividere all'interno della propria azienda con altri utenti che lo utilizzano per cui ha un livello di customizzazione molto elevato e io vi invito a sperimentarlo a provarlo a questo punto io ragazzi sono in fase conclusiva quindi mi metto a disposizione se avete qualche domanda se volete che io faccia qualche prova qualche volete che rispieghi qualche funzionalità o volete che io pratichi o avete qualche domanda voi nel modo in cui lo utilizzate andate subito in chat e e e postatela io prendo alcune domande prima di concludere così vi rispondo se invece avete delle curiosità se no ditemi anche chi non lo conosceva adesso che ve ne pare lo avete avete scaricato sapete che dal sito si può scaricare la versione di prova per una settimana ora io vi comincio a mandare un pochettino di risorse dove beccare quindi dove poter beccare la din gratis per provare quindi vi lascio il link scarica scarica gratis per provarlo poi ragazzi c'è qualcuno di voi che è qui e lo sta valutando per la sua azienda se lo state valutando per la vostra azienda per il vostro team scrivetemi ora io vi lascio la mia mail quindi la mia mail email vi lascio la mia mail diretta per chi non ce l'avesse già esatto così che se lo state valutando per il vostro team per la vostra azienda voi sapete che noi a livello corporate abbiamo una serie di corporate conditions quindi se viene acquistato da un'azienda ci sono poi a seconda dei bulk e degli sconti sulle quanti su determinate quantità vedo che vedo che c'è una domanda vi lascio anche ragazzi il canale youtube mio è un piccolo canale che io uso solo esclusivamente a scopo training quindi trovate tutta una serie di video funzionalità eventi che io faccio a scopo formativo e qua può essere utile perché trovate dei video su tutte le varie funzionalità Marco mi faresti rivedere il consistency manager come confermare le modifiche di font sì certo questa è un'ottima domanda allora andiamo al consistency manager ragazzi che così lo lo commentiamo rapidamente quindi entriamo nel consistency mettiamo che io qui per esempio abbia che queste vediamo cosa viene fuori il consistency manager in questo momento tutta la presentazione è fatta in calibri ok d'accordo allora mettiamo che no questa questa slide qui invece non è fatta in calibri ma è fatta in times new roman l'abbiamo usato prima riutilizziamo lo vedete che qua ah no no non avevo fatto refresh ecco dicevo io in questa presentazione ci sono tanti font quindi io voglio andare a rimpiazzarli voglio fare tutto in calibri quindi che cosa faccio prendo il console vado a selezionare un calibri faccio refresh poi calibri light lo posso tenere della stessa famiglia times certamente no vado a selezionarlo lo rimpiazzo refresh ok così via quindi vedete in quanto io riesco ma veramente alla velocità della luce no a rendere la presentazione coerente d'accordo semplice e veloce ok Marco risposto alla tua domanda vediamo ci sono altre domande Giuseppe vediamo cosa mi dici i fonti corpore aziendali una volta impostati rimangono salvati i PPT per presentazioni successive future sì allora ottima domanda condivido lo schermo Giuseppe sì i corporate font restano in tutte le tue presentazioni quindi come è proprio questo lo scopo questo pannellino qua che ti permette di avere a disposizione i tuoi colori corporate e i font sono memorizzati con il tuo profilo in cloud per cui ogni volta che tu ti collegherai al tuo powerpoint questi oggetti saranno sempre sempre disponibili e in questo ordine in questo modo tu potrai rendere le tue presentazioni sempre sempre coerenti vedo Anna che fa una domanda ci sono in MLC delle sequenze dei template di un tot di slide con testo fittizio dove cambi solo dei testi e colori sì Anna è esattamente così in MLC tu hai centinaia di template che noi mettiamo a disposizione qua quindi per accedervi bisogna cliccare su graphic library andare su template e qui tu hai a disposizione centinaia di template preparati completamente modificabili che noi disegniamo utilizzo questo ad esempio vedi dove tu hai del testo e tu puoi modificare tutto perché noi ti mettiamo a disposizione i sorgenti questo è un pochettino per abbattere ragazzi su la paura della pagina bianca vedi io tutti questi oggetti qua me li posso andare a customizzare il template è completamente customizzabile smontabile ci potete fare veramente tutto quello che volete ok Anna spero di aver risposto alla tua domanda Marco grazie a te per la domanda Giuseppe grazie a te per la domanda e Anna grazie a te per la domanda ok ragazzi allora io se non ci sono altre domande vi ringrazio la registrazione sarà disponibile per voi che avete partecipato all'evento faremo farò io un follow up per email ad ognuno di voi così che vi mando la registrazione se avete desiderio di rivederla condividerla e poi se avete anche delle altre domande che magari ora non volete fare in chat ma volete farmi direttamente io vi invito a collegarvi con me su LinkedIn alcuni di voi sono già collegati se 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 gli altri non lo sono ragazzi collegatevi su LinkedIn mandatemi un piccolo messaggino in chat mi dite se vi è piaciuto se vi è piaciuta la masterclass se l'avete trovata utile se avete delle altre domande che magari non vi sentite di fare in chat ma volete farmi direttamente collegatevi su LinkedIn con me e sarà mio piacere fare due chiacchiere con voi ragazzi io vi ringrazio di aver partecipato e spero che grazie Anna sono contento che sia stato interessante spero di avervi lasciato qualche spunto utile oggi è una demo chiaramente questa classe io la faccio anche in versione corporate per cui è diverso perché abbiamo modo di fermarci di praticare ci colleghiamo tutti in video possiamo parlare livello di interazione completamente diverso oggi chiaramente questo non è possibile però spero di aver utilizzato il tempo nel modo migliore per avervi dato ecco degli spunti utili e spero che insomma di vedervi utilizzare questo questo nostro LinkedIn e di darvi il benvenuto nella nostra community quindi ancora una volta ragazzi grazie a tutti bim